Si parla di sviluppo e sostenibilità, manca altra tecnologia, l'Università di Salerno in prima linea, anche e soprattutto con gli impianti che ha a disposizione. Gli impianti che abbiamo a disposizione, che già sono all'avanguardia, ma soprattutto quelli che avremo a disposizione, perché abbiamo partecipato a delle gare con il Ministero dello Sviluppo Economico, abbiamo avuto un riconoscimento importante con i nostri progetti, sono piazzati ai primi posti, è un riconoscimento economico importante se è vero, come è vero che abbiamo recuperato oltre 7 milioni di euro per l'efficientamento energetico. Tra l'altro il Ministero, premiandoci per la nostra virtuosità dal punto di vista dell'ordine della documentazione, ha finanziato alcuni progetti cosiddetti retrospettivi, cioè progetti che abbiamo già realizzato, coerenti rispetto alla linea di azione, finanziato con fondi propri e che oggi invece possiamo portare a rendicontazione sul bilancio del MISE. Questa è testimonianza di come può investire, investire sulla sostenibilità, investire su un campus sempre più verde e all'avanguardia, sia un ritorno anche di tipo economico. All'Università si parla di sostenibilità, di impianti e alta tecnologia, quali sono gli interventi realizzati in questo ambito e quelli in corso di realizzazione e perché no anche quelli futuri? Sì, organizziamo questo seminario proprio per dare diffusione agli interventi che stiamo realizzando e a quelli che abbiamo in corso di realizzazione. Si tratta di impianti fotovoltaici, impianti di trigenerazione che ci permetteranno di abbassare i costi della bolletta energetica, di risparmiare anche CO2 e quindi di sostenere in qualche modo il processo di risparmio energetico e sviluppo sostenibile. Allo stesso modo, oltre a un punto di vista economico, l'Università di Salerno in questo caso si può porre anche come campione, come modello da seguire? Sì, avremo ospiti un dirigente generale del Ministero dello Sviluppo Economico, una dottoressa Vitale di Invitalia che segue questi tipi di progetti di finanziamento. Abbiamo raggiunto una grossa intesa istituzionale con loro, quindi vorremmo mostrare anche come si fa a ricevere finanziamenti per realizzare questo tipo di interventi nel settore della pubblica amministrazione. Grazie a tutti.